Inizi tu Gian Umberto. Facciamo iniziare prima dalle piante. Allora io in realtà sono un entomologo, cioè una persona che studia gli insetti, che hanno una relazione molto stretta con le piante. Allora, dunque l'idea era quella di mettere a confronto questi due mondi. Non parliamo di una battaglia perché altrimenti vincerei troppo facilmente le piante. Sono di gran lunga i campioni della vita. E per farti capire di che cosa stiamo parlando, quando si annuncia un match tra pugili, la prima cosa che si fa lì si pesa per sapere se sono nella stessa categoria. Per questo che ti dico non possiamo farlo, perché siamo di due categorie diverse. Le piante rappresentano l'85,5% del peso della vita. Cioè se noi potessimo pesare tutto agli esseri viventi, l'85,5% della massa, del peso della vita, vedremmo che è composta dalle piante. A quanto ammontano invece gli animali tutti insieme? Mammiferi, insetti, anfibi, uccelli, pesci? Allo 0,3%. Tutti quanti insieme siamo così pochi. E quindi diciamo siamo proprio in categorie diverse da questo punto di vista del peso. Sì, è vero che sicuramente per quanto riguarda il peso le piante vincono. Però per quanto riguarda la diversità sicuramente gli animali e in particolare gli insetti invece sbaragliano le piante. Pensate che sono stati calcolate un numero di specie di formiche in un unico albero dell'Amazzonia talmente elevato da superare tutte le specie di formiche dell'Inghilterra. Quindi c'è una diversità incredibile, c'è una diversità proprio di specie pazzesca proprio perché devono gli animali e gli insetti in particolare relazionarsi con le piante che in effetti sono, diciamo così, sono dei temibili avversari. C'è una cosa che magari vi potreste chiedere. Come mai, non so in quanti di voi abbiano mai percepito il fatto che le piante sono così tante? Cioè che rappresentano questa enorme quantità di vita. Ora, il fatto che noi uomini ci stiamo impegnando in maniera realmente significativa a eliminarle tutte è un'altra storia. Pensate che ogni anno, nonostante tutto quello che voi potete sentire dire riguardo alla questione della protezione della natura, cambiamenti climatici, eccetera, e all'importanza degli alberi per quanto riguarda l'assorbimento dell'anidride carbonica e quindi il contrasto al riscaldamento globale, nonostante questo ogni anno il saldo finale è di meno 15 miliardi di alberi. Ancora oggi noi tagliamo 15 miliardi di alberi, cioè il saldo fra quelli che piantiamo e quelli che tagliamo è meno 15 miliardi. Negli ultimi due secoli abbiamo tagliato un terzo di tutti gli alberi del pianeta. Uno dei motivi, a parte diciamo proprio la mancanza di comprensione di che cosa sia la vita e quindi pensare che noi potremo anche sopravvivere senza questa parte fondamentale della vita che sono le piante, che è ovviamente un'assurdità. Ma le piante sono anche qualcosa di straordinariamente più diverso da noi, cioè anche coloro che riescono a vederle, cioè che davvero percepiscono la presenza delle piante. Vi ripeto, guardate che l'85,5 in confronto allo 0,3 è una questione enorme. Il fatto che noi non lo percepiamo davvero ha a che fare col fatto che noi siamo ciechi alle piante, ma anche quella piccola quantità di persone che riesce a vedere le piante, cosa comprende delle piante? Cioè cosa potete capire di esseri che sono così incredibilmente diversi da noi? Incredibilmente diversi. Per quanti di voi potrebbero mai pensare che le piante sono in grado realmente di risolvere problemi? Cioè sono esseri intelligenti, cognitivi. Perché abbiamo questa difficoltà? Beh, proviamo a fare un esperimento, un esperimento mentale. immaginiamo che ora qui di colpo in questo spazio fra me e Gian Umberto si materializzi qualche cosa che è proveniente da un altro sistema solare, da Alfa Centauri. Si materializza qui una cosa che noi sappiamo provenire da Alfa Centauri. Come faremmo a capire se è intelligente, addirittura se è viva? Beh, che cosa faremmo? Proviamo a pensarci. Si materializza staffare qui la prima cosa, prima diciamo oddio che cos'è, dopo un po' ho io, Gian Umberto con la punta del piede proviamo a toccarla. Allora se questa cosa si muove, allora abbiamo già un'idea che è qualche cosa di vivo. Possiamo pensare, beh, si guarda, è vivo. Ma se non si muove, già si mette in cattiva luce, non ha niente a che fare con la vita. Dopodiché cosa possiamo pensare? Possiamo pensare di guardare se ha qualche cosa di simile sempre a noi, da un punto di vista degli organi, se ha degli occhi, qualche cosa che assomiglia a delle antenne, eccetera. Ma se non vediamo niente, allora noi immediatamente pensiamo che quest'affare sia non vivo e se è vivo è assolutamente una questione inerte. È esattamente ciò che facciamo con le piante. Noi guardiamo le piante, siccome sono una forma evolutivamente molto diversa da noi, non la comprendiamo. Uno, non si muovono, non sarebbe neanche corretto, diciamo non si spostano, non si spostano dal luogo in cui sono nate, sono radicate. E noi non possiamo neanche immaginare una forma di vita intelligente che non abbia la capacità di muoversi, perché noi siamo animali. Animali vuol dire animati, che si muovono. Noi ci muoviamo. E queste invece sono degli esseri fermi. Dopodiché già quindi mancano di questa che è la nostra prima risposta a qualunque tipo di problema. Noi normalmente ci spostiamo, andiamo via dai problemi e diciamo di averli risolti, scappiamo. Le piante non possono farlo. Seconda cosa, se voi siete fermi, se voi siete una pianta, che cosa accade? Qual è il primo problema? Un problema enorme che ha guidato davvero l'evoluzione di questi esseri viventi. Una pianta che è radicata ha difficoltà molto forti a difendersi dalla predazione, cioè non può scappare. Arrivano gli animali, sì le piante hanno delle strategie, le vedremo, però gli animali le mangiano. Guardate che questa cosa è fondamentale. Le piante si sono evolute sapendo che sarebbero state mangiate. È una questione fondamentale. Ora, e sono costruite in una maniera che è diversa da noi. Perché noi non vediamo questi famosi organi di cui parlavamo prima? Perché non vediamo il fatto che le piante non abbiano due polmoni vuol dire che non respirano? Il fatto che non abbiano due occhi che non vedono, due orecchie che non sentono, eccetera, eccetera. Una bocca vuol dire che non si nutrono? No, assolutamente non sta così la questione. Gli organi singoli o doppi tipici degli animali sono un punto molto debole. Pensate al nostro corpo. Basta che uno qualunque di questi organi si danneggi perché l'intero organismo collassi. Ora voi immaginate una pianta, una sequoia, un affare che è dieci volte più grande in massa del più grande animale presente sulla Terra, la Belenotter azzurra, che può essere alto 115 metri, soprattutto della Terra, quindi altri 115 sottoterra di radici. Immaginate un essere così gigantesco se fosse costruito come noi, cioè se avesse un cervello, due reni, due polmoni. Il primo bruco che gli fa un buco nel polmone o nel cervello o nel rene distruggerebbe, farebbe morire un organismo così grande. E che cosa hanno fatto quindi le piante? Si sono evolute secondo una direzione che è completamente contraria a questa della centralizzazione delle funzioni. Noi abbiamo organi specializzati, singoli o doppi, che svolgono due polmoni per respirare, uno stomaco per digerire, due occhi per vedere, eccetera, un cervello per ragionare. Le piante hanno distribuito tutte queste incredibili funzioni sull'intero corpo. In altre parole, una pianta respira con tutto il corpo, vede con tutto il corpo, ragiona con tutto il corpo, comunica con tutto il corpo. E questo cambia completamente le cose. Voi potete ritagliare l'80% di una pianta e la pianta continua a vivere. Potete eliminare l'80%, cioè una pianta può sopportare a volte anche asportazioni superiori all'80% e continuare a vivere. Quale altro essere vivente sarebbe in grado di sopportare qualche cosa del genere. È un'organizzazione nuova, differente, completamente differente da quella degli animali, tanto differente che noi non riusciamo neanche a capirla, a vederla. Per questo che vi facevo l'esempio di una cosa evoluta o arrivata da un altro sistema solare. Perché per noi potrebbero essere tranquillamente qualche cosa del genere, tanto sono diverse e non le capiamo. Le piante invece hanno un organismo, pensate, sono talmente diverse da noi che non sono neanche individui. Noi animali, tranne pochissimi casi, siamo tutti individui. Che vuol dire individui? Viene dal latino. Individus, non divisibile. Vedo tanti studenti, lo sapevate che in il latino voleva anche dire non? Mica tanto. Individus vuol dire non divisibile. Gli animali, noi, siamo indivisibili. Io non mi posso tagliare a metà. Ma una pianta è divisibilissima. Voi potete dividerla in migliaia di pezzi e addirittura non ucciderla ma propagarla. Quindi non rispondono neanche alla definizione di individuo. Sono proprio una forma di vita completamente diversa dalla nostra. Bene, sì, assolutamente vero, ma c'è da dire che anche gli insetti sono invisibili. Addirittura, così diciamo, prendendo l'esempio del marziano, nella nostra iconografia il marziano ha le antenne come gli insetti, sono verdi come gli insetti e sono cattivi come gli insetti. Perché quello che noi pensiamo normalmente gli insetti è che siano degli animali cattivissimi. Addirittura nella Bibbia vengono citati e non vengono citati bene, in particolare la cavalletta che è l'animale che così è più presente, più abbondante nella Bibbia. In realtà non si vedono tanti aspetti degli insetti perché anche loro hanno fatto una strada completamente diversa rispetto alla nostra. Per esempio, faccio un esempio, l'utilità dell'ape è recente, cioè almeno la conoscenza dell'utilità dell'ape è recentissima. Solo a metà ottocento si è scoperto che l'ape era responsabile dell'impollinazione delle piante superiori. Prima le persone, gli scienziati, pensavano fosse un parassita delle piante. Poi Darwin semplicemente ha preso dei bicchieri, li ha messi sopra del trifoglio violetto e ha visto che senza l'azione dell'ape i fiori, frutti insomma non riuscivano in qualche modo a svilupparsi. Quindi c'è un aspetto molto evidente degli insetti che è quello dannoso, che è vero, c'è assolutamente. Poi c'è un aspetto invece nascosto che è la loro utilità. In realtà anche noi quando guardiamo gli animali in generale, gli insetti in particolare, vediamo solo alcune cose perché li guardiamo da un punto di vista. Perché anche molti animali si comportano esattamente come le piante, si lasciano mangiare, soprattutto alcuni animali erbivori, si lasciano mangiare non tanto come individuo ma come gruppo, cioè il gruppo si lascia mangiare. Faccio un esempio eclatante, sono gli afidi, li conoscete, i pidocchi delle piante. Ebbene i pidocchi delle piante utilizzano una strategia di riproduzione che si chiama R, tale per cui ogni femmina produce una marea di figlie, solo figlie. Quando guardate gli afidi in una rosa, ebbene vedete solo individui femminili, in modo tale che il 100% della popolazione può riprodursi. Hanno eliminato nella notte dei tempi il genere maschile. Ebbene, non solo sono tutte femmine, ma addirittura sono tra i pochissimi insetti che partoriscono. Cioè non depongono le uova, ma partoriscono. Ma non solo. Quando la figlia sta per nascere è già incinta, cioè nel suo grembo, nel suo addome, ha già un'altra figlioletta pronta a nascere. E si chiama inscatolamento delle generazioni. Cioè quando un'afide diventa mamma, dopo due o tre minuti diventa anche nonna. Passati altri sei minuti diventa bisnonna. Questo ha l'effetto di ricoprire il getto di rosa, o comunque insomma qualsiasi piante, di una marea di afidi. E a livello di gruppo si lasciano letteralmente mangiare. Ma perché fanno questo? Perché loro hanno scelto di nutrirsi di una sostanza particolare dei vegetali. Non si mangiano la cellulosa, che è praticamente indigeribile per tutti. Loro succhiano la linfa elaborata, che invece è una sostanza zuccherina. Quindi ha tante, diciamo così, tanta energia. Solo che per farlo devono proprio infilare il loro apparato boccale, che assomiglia a una cannuccia, all'interno di alcuni vasi. E devono mangiare tutto il giorno. Mangiando tutto il giorno sono fermi, esattamente come le piante. Quindi hanno adottato una strategia per farsi mangiare. Ma, diciamo, qualcuno rimane sempre. Rimane sempre. E quindi, insomma, la specie, così, può sopravvivere. E può sopravvivere bene, perché una afi del midus persice è l'insetto più dannoso al mondo per l'agricoltura. Quindi, insomma, una strategia, quella di farsi mangiare, che funziona bene. Ma ce ne sono tante altre di strategie per, in qualche modo, sopravvivere con le piante. Per esempio, quella dei bruchi. I bruchi mangiano le, diciamo così, le foglie, la parte vegetale, mangiano cellulosa. Solo che la cellulosa non è digeribile. E quindi, come fanno? Mangiano sempre. Mangiano continuamente. Appena arriva l'alba, iniziano a sgranocchiare le foglie. Mangiano, mangiano, mangiano. E si fermano solo di notte. Ma non perché non hanno più fame. Perché sono animali che non regolano la temperatura interna e quindi sono costretti a fermarsi. Mangiano un quantitativo di cibo al giorno pari a dieci volte il proprio peso. Quindi una quantità di vegetali incredibile. Grazie, appunto, a questa energia, seppur poca, ma comunque, insomma, loro adottano la quantità, diventano delle crisalidi. E poi gli adulti. Gli adulti hanno pochissimo tempo perché si devono riprodurre e quindi non mangiano delle sostanze indigeribili come la cellulosa. Ma vanno sui fiori e raccolgono il nettere, che invece è una gocciolina di acqua e zucchero, quindi con tanta energia, grazie alla quale riescono a volare, a riprodursi. Volevo fare anche un altro esempio delle formiche. Ci sono alcune formiche, in particolare le formiche tagliafoglie, che si nutrono di foglie. Si nutrono di foglie, anche loro così, la loro etologia è particolare, perché ci sono delle formiche esploratrici che vanno così a cercare delle foglie particolari, le più velenose dell'Amazzonia. Proprio c'è con le più velenose. Poi quando ne trovano, trovano una pianta, una, l'esploratrice, mette un fischio, un fischio che è talmente debole per noi che non lo sentiamo. Ebbene, questo suono attira le altre formiche, arrivano in massa, tutti si mettono a fischiare, a questo punto lo possiamo sentire anche noi, è un sibolo debolissimo, però una volta che si sono radunate tante formiche, defogliano completamente la pianta, la quale però sopravvive benissimo, e poi in fila indiana portano pezzettini di foglie, perché tagliano le foglie con le mandibole, trasportano i pezzettini di foglie all'interno del formicaio. Queste vengono gestite da altre sorelle, anche le formiche sono tutte femmine, altre sorelle che le masticano, versano dell'acqua e le fanno digerire da altri organismi che sono i funghi, cioè praticamente fanno delle coltivazioni di fungo, loro preparano il terreno, il fungo digerisce la cellulosa, toglie le tossine delle piante e poi le formiche si possono mangiare appunto il micelio di questo fungo che è simile alla muffa del pane. Ci sono addirittura dei funghi che vivono solo in simbiosi con le formiche. Poi di strategie ce ne sono davvero tanti, alcuni si sono specializzati, per esempio il legno, riescono a mangiare una sostanza davvero indigeribile come il legno e riescono a farlo, le termiti perché lo fanno digerire dai funghi, ma alcuni bruchi da alcune falene riescono a digerire il legno semplicemente allungando il loro ciclo di vita. Un bruco di cossus cossus, che è erro di legno rosso, può rimanere nel legno e mangiare solo legno, ma deve vivere per anni e anni e anni e rallentare moltissimo il metabolismo, perché insomma quello che mangia è molto poco. Ti lascio la parola, dico solo che alcuni, anche alcuni mammiferi adottano la stessa strategia. Non digeriscono loro la cellulosa, ma fanno digerire, è tutta una flora batterica enorme e sono appunto tutti i ruminanti che hanno questo stomaco enorme, in realtà non sono grasse, hanno questo rumine gigantesco che è un fermentatore. Oppure come alcuni animali, come le scimmie urlatrici o il bratipo, che invece mangiano le foglie, quindi una sostanza molto povera di energia, ma non fanno niente da mattina a sera. Hanno risolto così, con la nulla facenza. Dunque, i rapporti fra piante e insetti sono veramente dei rapporti di amore e odio. Nel senso che gli insetti sono sicuramente i predatori principali delle piante, non sono i mammiferi, non sono gli animali superiori, ma sono gli insetti il numero di animali che riescono a predare, quindi a consumare le maggiori quantità di tessuti vegetali. Ma d'altra parte, con gli insetti le piante hanno anche tutta una serie di relazioni amichevoli, soprattutto per quanto riguarda l'impollinazione. L'impollinazione, però vorrei raccontarvi qualche storia sull'impollinazione. Beh, innanzitutto l'impollinazione di fondo, nel 90% dei casi direi, è proprio un affare alla pari per piante e insetti. Proprio immaginate tutta la storia dell'impollinazione, il fiore, come se fosse un mercato. I fiori sono la pubblicità, servono proprio ad attrarre gli insetti. Gli insetti arrivano, fanno, svolgono un compito per le piante, cioè trasportano il impolline da una pianta, da un fiore all'altro e in cambio ne hanno una ricompensa che è il nettare. Il nettare è una sostanza zuccherina molto energetica che piace ovviamente molto agli insetti. Questo è una relazione alla pari. Ci sono tantissimi casi però in cui le piante, così come ci sono dei casi in cui gli insetti prendono il nettare senza portare in giro il polline, ci sono tanti casi in cui le piante manipolano gli insetti proprio al fine di far trasportare loro del polline senza dare nulla in cambio. Alcuni casi strepitosi sono quelli delle orchidee, ci sono almeno più o meno la metà. Le orchidee sono una delle famiglie più grandi del regno vegetale, sono molte migliaia di specie. Almeno la metà di queste ingannano gli insetti per indurli a trasportare il proprio polline. Come fanno? Beh, alcuni casi sono straordinari, per esempio riproducono esattamente nel fiore la femmina di un insetto. Immaginiamo molto spesso sono degli imenotteri solitari, cioè che non vivono in colonie. Quindi immaginate, poi Gian Umberto mi corregge se dico la stupidaggia, delle specie di vespe che non vivono in colonie, che vivono solitarie. Questa è praticamente l'orchidea riproduce esattamente, ma credetemi è veramente difficile distinguerli col fiore, la femmina di questo insetto. Quindi c'è un primo inganno che è di tipo visivo, ma gli insetti non sono facili da ingannare. Allora bisogna aumentare il livello di inganno. Il secondo inganno è di tipo olfattivo. Questo fiore produce gli stessi feromoni che sono prodotti dalla femmina di quelli menottero quando è pronta per l'accoppiamento, quindi quando attrae i maschi. E poi c'è una terza mimesi che è straordinaria, che riguarda la superficie del fiore. La superficie di queste orchidee ha una leggera peluria, proprio come l'hanno le femmine di questi insetti. Allora, se guardate i filmati di che cosa accade, è veramente straordinario, perché questi fiori emettono questi feromoni, attraggono il maschio. Il maschio arriva, lo vedete toccare con le zampette, in modo da accertarsi che sia roba buona, e dopodiché inizia ad accoppiarsi col fiore, proprio si accoppia. Durante l'accoppiamento, mentre il maschio ci dà dentro, l'orchidea gli piazza sulla testa, qui, esattamente qui, due cornini. Dovete immaginare veramente due cornini, si chiamano pollini. Cosa sono i pollini? Sono degli organi che contengono polline, che hanno alla loro base una colla, una specie di colla che è stata studiata per riprodurla, talmente forte e immediata, che l'insetto, diciamo, si trova questi due corni gialli sulla testa e non riesce a liberarsi. Dopodiché va via, si riprende, diciamo, dalle fatiche dell'amore e viene di nuovo ingannato da un'altra orchidea, dove deposita questa volta questo polline. Allora, pensate che è talmente forte l'inganno, chiamiamolo così, che lì dove ci sono queste orchidee in fiore, questi insetti non si riproducono, cioè i maschi vanno quasi esclusivamente, anzi esclusivamente, si accoppiano con i fiori. Allora, le femmine degli insetti, una strategia che spesso gli insetti utilizzano, non vedendo maschi in giro, pensano che non ce ne siano e quindi producono per partenogenesi una generazione completamente di femmine, scusami, di maschi, completamente di maschi, i quali vanno anche loro ad aumentare, diciamo, la capacità di riproduzione di queste orchidee. Questo è un primo caso di manipolazione che riguarda l'impollinazione, ce ne sono tantissimi altri, ma oggi non abbiamo tanto tempo per discuterne. Poi vi voglio raccontare di un'altra straordinaria capacità che hanno le piante di manipolare gli animali in genere, che a me interessa molto proprio perché negli ultimi due anni è una delle materie che stiamo studiando di più nel mio laboratorio ed è la capacità che hanno molte piante di letteralmente manipolare le formiche. Come fanno? Ora, le formiche e le piante hanno una storia, diciamo, di coevoluzione lunghissima, 70 milioni di anni di di coevoluzione comune. Non so quanto voi osserviate o abbiate mai guardato un albero, ma insomma, se avete un'idea, se avete possibilità di guardare qualunque albero in natura, ma anche in un campo, in un giardino, molto spesso ci troverete delle formiche sopra. Queste formiche che cosa fanno? Bene, è interessante questa storia perché, e questa storia, bisogna che mi affretti, riguarda una cosa particolare. Darwin si era accorto che molte piante producevano nettare al di fuori del fiore, cioè lo producevano sui rami. E allora lui pensava, beh, anche Darwin ogni tanto diceva dalle stupidaggini, pensava che fosse una maniera col quale le piante eliminavano le sostanze di scarico, diciamo, i rifiuti. Un botanico italiano, invece, che si chiamava Del Pino, che ebbe una lunga e interessantissima corrispondenza con Darwin, gli scrisse dicendo, caro maestro, secondo me ti sbagli. non è possibile che le piante mettano e eliminino una sostanza così ricca ed energetica come il nettare sui loro. Ci deve essere un motivo. Qual era questo motivo? Era attrarre gli insetti. Però sorge un altro problema. Per quale motivo le piante dovrebbero voler attrarre degli insetti sul proprio corpo? Non vogliono, le piante non vogliono insetti sul proprio corpo, tranne che durante l'impollinazione. Allora va bene. E questo fu un altro problema, fino a quando non si scoprì che le piante chiamavano le formiche quando c'erano dei predatori. Quindi la questione funziona così. Immaginate, arriva un bruco o una cavalletta, inizia a mangiare le foglie. la pianta immediatamente produce nettare sui propri rami, extrafiorale, si chiamano netteri extrafiorali, che richiamano le formiche, le quali mangiano questo nettare e qui c'è la questione interessante, cambiano il loro comportamento. E questa è la questione che ci sta interessando molto negli ultimi due anni, perché mangiano il nettare e diventano incredibilmente aggressive di solito, per cui attaccano qualunque cosa ci sia sull'albero, compresa la cavalletta. Questa era una cosa che si conosceva, cioè sapevamo, si viene chiamata mirmecofilia, amore per le formiche, che le piante, ci sono molte specie che sono mirmecofile, che amano le formiche. Negli ultimi, proprio negli ultimi anni invece abbiamo iniziato a scoprire una cosa differente, che in questo nettare, e qui a questa cosa che vi ho raccontato sembrerebbe una specie di storia come quella dell'impollinazione, una cosa alla pari, tu mi difendi e io ti pago in nettare. E invece è venuto fuori che la questione è molto più complessa, perché molte di queste formiche, una volta che arrivano sulla pianta, mangiano il nettare, non si comportano più come si comportavano prima. Per esempio non tornano più al loro nido. Tornare al formicaio è uno degli ordini genetici più forti che hanno le formiche. Invece quando arrivano su questi alberi, mangiano questo nettare, rimangono sull'albero. Difendono l'albero da qualunque tipo di aggressione. Anche in Africa, anche da parte di una giraffa, di un elefante, attaccano. Sono le punture delle formiche, possono essere molto dolorose i morsi delle formiche e quindi mantengono via questi animali. Quello che abbiamo scoperto, la faccio breve, è che nel nettare moltissime piante infilano delle droghe, delle sostanze neuroattive che agiscono sul cervello delle formiche, ne cambiano completamente il loro schema di comportamento e soprattutto le rendono dipendenti. Cioè realmente dipendenti. Una volta che ha mangiato il nettare, la formica non può stare più fuori senza il nettare. Se tu la metti nel paradiso delle formiche si lascia morire. Deve stare lì sulla pianta. E quello che è ancora più sorprendente è che la pianta modula sia la quantità che la qualità delle sostanze neuroattive in modo da garantirsi il comportamento ogni volta più appropriato della formica. Quindi, diciamo, si va veramente dalla predazione, che è quella che ci ha raccontato ora Gian Umberto, a quella che potremmo chiamare simbiosi, veramente, o cooperazione, che è del caso dell'impollinazione, fino ad arrivare a dei casi veri e propri di manipolazione, in cui, diciamo, l'insetto è in mano alle piante. Tenete presente che la questione delle droghe e delle piante è ancora molto più interessante di questo breve accenno che vi ho fatto io. Vi accenno soltanto al fatto che tutte le droghe prodotte in natura, diciamo, sono al 99%, provengono dalle piante e se non sono delle piante sono dei funghi. C'è un motivo proprio legato al fatto che in questa maniera le piante legano hanno il proprio destino a quello degli animali. Grazie. C'è da dire che anche gli insetti manipolano le piante. Vi faccio un esempio che si può osservare anche nel giardino, nel parco. Allora, vedo che le piante sono ferme e non possono incontrare il partner fisicamente, hanno necessità di un intermediario che si chiamano appunto impollinatori o pronobi. La maggior parte dei pronobi sono insetti. Però c'è una differenza tra impollinatori e impollinatori. Ce ne sono alcuni molto scarsi, come per esempio la farfalla. Altri invece che sono dei virtuosi dell'impollinazione, come per esempio l'ape. L'ape è la migliore e lo è per fondamentalmente diversi motivi. Il primo è perché deve raccogliere tanto nettere. Deve raccogliere tanto nettere perché deve nutrire una famiglia vastissima. Solo il 20% delle api vanno a raccogliere il nettere, sono le bottinatrici. Tutte le altre invece se ne stanno all'interno dell'alveare. Poi ci sono addirittura, devono nutrire anche i fuchi, che non fanno niente da mattina a sera, ma quella è un'altra storia. Quindi devono raccogliere tanto nettere per la famiglia e soprattutto per l'inverno. In inverno non ci sono i fiori, quindi le api devono trasformare il nettere in una sostanza capace di sfidare l'inverno, di così in qualche modo passare i mesi invernali. Quindi avendo necessità di raccogliere tanto nettere deve visitare tanti fiori. Infatti ne visita tantissimo. Pensate che è stato calcolato che un alveare visita tutti i fiori di un'area con un raggio di tre chilometri. Li visita tutti. Poi non solo. L'ape è anche un insetto fedele, cioè presenta quello che viene chiamato la costanza fiorale. Cioè quando un'ape alla mattina esce l'alveare, si tuffa sul fiore, poi rimane costante a quel fiore per tutta la giornata. Quindi un meccanismo ottimale per la pianta, perché un granulo pollino raccolto nel primo fiore cadrà in maniera chirurgica nel secondo. Ecco perché quello che vediamo nel prato è l'effetto di una fame di ape, di brama di ape. Le piante vogliono l'ape e fanno di tutto per averlo. Quindi profumano con degli odori gradevoli all'ape. Hanno delle strutture fiorali, proprio dei petali, tali per cui attirano, entrano nel mondo dell'ape, che l'ape non ci vede benissimo. Quindi i fiori devono essere un po' bizzarri e contorni speciali per catturare l'attenzione dell'ape. E devono essere in alto, su degli steli molto alti, perché se l'ape non vede bene i contorni, vede perfettamente il movimento. Quindi quando un fiore è su uno stelo basta, diciamo così, un piccolo venticello per muovolo e entrare nel mondo percettivo dell'ape. Concludo velocissimamente raccontandomi una cosa, che c'è una diversa fedeltà delle diverse api. Esistono diverse, alcune sottospecie di ape, alcune molto fedeli e altre poco fedeli. C'è una fedelissima, che non sbaglia mai, è dell'ape tedesca. Poi ci sono altre che ogni tanto tradiscono così il fiore. Poi ce n'è uno che fa del tradimento la norma. Cioè quando a metà mattina incontra, per esempio, un fiore più profumato, più colorato, con più lettere, ebbene non ci pensa due volte a abbandonare il primo fiore per passare al secondo, ed è l'ape italiana.